Vuoi davvero diventare un supereroe? Giocare con i grandi? Impediremo agli amici della libertà che gli facciano del male. I progioni e i suoi amici sono qui già qui. Forse puoi renderti utile. Io sto dalla tua parte. I progioni e i suoi amici qui. Eh sì, è fratturato. Zalman, scontri diretto. E non scordarti l'asciugamano.